E' scontro cultura a Napoli sulla questione dei POC dirottati dalla regione Campania. Due i milioni di euro inizialmente previsti per il mercadante e cancellati con una telefonata ai vertici del teatro il giorno prima della presentazione del programma di Pompei Teatro Mondi. Due i milioni venuti meno inizialmente destinati al San Carlo, di pari passo con gli 800.000 euro negati al Giffoni. Rispettate invece le promesse fatte sul teatro comunale Verdi e le luci d'artista di Salerno. Qual è stata la spiegazione in merito offerta dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca? Non mi pare che ci sia molto da chiarire. Ci sono dei cafoni a Napoli che rimangono cafoni e che immaginano di poter ricattare un'istituzione. Ho cercato di spiegare che questa storia a Napoli è finita. Quando si fa la programmazione culturale, prima si approvano i bilanci, poi si decide quello che si programma. C'è un'antica tradizione a Napoli per cui si fa tutto il contrario. Ognuno programma a capocchia, cioè mette in piedi le cose che gli piacciono e poi ricatta l'istituzione perché chiede soldi. O mi date i soldi oppure faccio la conferenza stampa. A me le conferenze stampa fatte per ricattare mi attivano la circolazione, diciamo, mi fanno stare meglio. Quindi la vicenda del mercadante si tradurrà in questo, che la regione risparmierà altri 2 milioni di euro perché la cafoneria noi non la finanziamo. Quasi in contemporanea, mentre De Luca parlava del caso a Palazzo Santa Lucia, a Palazzo San Giacomo il sindaco Manfredi offriva il suo commento in merito. Noi dobbiamo distinguere quelle che sono degli eventi, chiamiamoli straordinari, come l'evento di Pompei che è sicuramente una programmazione, diciamo, molto importante, qualitativa, molto importante, che però non fa parte del corpus, diciamo, del teatro stabile. Noi dobbiamo garantire la continuità delle attività del teatro che possa mantenere i requisiti di teatro stabile. Noi faremo, insomma, uno sforzo sia come comune che come città metropolitana per aumentare la dotazione che ogni anno si è sempre data al mercadante. E quando poi al sindaco di Napoli è stato fatto notare che l'ex governatore Caldoro, che per primo si era trovato a gestire i fondi POC per la campagna, ne decideva l'assegnazione attraverso tavolo di partenariato. Ecco cosa ha dichiarato. Da quando io sono sindaco questo tavolo di partenariato non si è mai riunito, quindi se che questo si facesse prima, insomma, me lo dici tu, probabilmente era così, però quindi mi auguro che in futuro si faccia.